Grazie. Due piani quasi valutti un po' distinti per non creare contocircuiti, soprattutto nel sistema informativo dell'emittenza pubblica e privata. Ne vogliamo? Salutiamo zio. Come sta zio? Ce l'hai, che vuoi? Anche l'altro ce l'ha zio e non glielo dice nessuno. Che non si vuole la parco di gioco e gli zii. E non riesco a uscire adesso. Abbiamo fatto una cosetta importante, diciamo. Grazie.